Tifosi, tifosi viola, un saluto a tutti da parte del vostro India Violato. Allora, la prima partita del preliminare di Conference League purtroppo finisce 1-0 per il Rapid di Vienna. Partiamo dal presupposto che comunque si sapeva che era una partita che poteva essere complicata perché comunque il Rapid Vienna, magari un livello tecnicamente più basso della nostra Fiorentina, doveva buttarla sul gioco magari più maschio, più contenuto ed è infatti quello che è venuto fuori in questa partita dove il Rapid Vienna ha dato il tutto per tutto nel primo tempo dove poi hanno trovato questo rigore che onestamente c'era tutto anche perché 5 secondi prima l'arbitro aveva detto basta più trattenute altrimenti do il rigore e così è stato purtroppo Mandragor ha trattenuto un giocatore del Rapid Vienna e l'arbitro ha dato questo rigore che è stato trasformato da grullo, grullo, si è preso gol da un grullo. Però insomma, primo tempo la Fiorentina è stata un po' sotto tono perché il Rapid Vienna ha veramente giocato a ritmi altissimi, ci ha chiuso tutti le nostre diciamo bocche da fuoco, specialmente Arthur che non è riuscito a costruire gioco anche perché c'aveva questi due attaccanti del Rapid Vienna che in fase di non possesso indietreggiavano e comunque chiudevano la fonte di gioco della Fiorentina e quindi Arthur. Perciò i ragazzi hanno trovato molta difficoltà a venire fuori nel gioco. Un pochino meglio nel secondo tempo ma purtroppo non è bastato per perlomeno pareggiare o ribaltare il risultato. Quindi a giochi fatti ce la dovremo conquistare al ritorno il 31 di agosto al Franchi la qualificazione in UEFA Conference League. Ora, io mi permetto di dire una cosa, onestamente sarà una partita ben diversa da quella che abbiamo visto stasera. Sicuramente il Rapid Vienna verrà a fare le barricate però quest'anno e l'abbiamo visto anche nel secondo tempo abbiamo i giocatori anche in panchina che possono entrare e possono eventualmente risolvere la partita. Anche perché a prescindere da quelli che sono partiti, gli 11 che sono partiti e mi è piaciuto tantissimo Ranieri veramente ha giocato una ottima partita, non si è mai fatto trovare in impasse, insomma è sempre stato sul pezzo. Poi per quanto riguarda quelli che sono entrati comunque mi è piaciuto molto nuovamente Gino Infantino. Beltran ha dato quell'allegria in più diciamo un attacco perché ora come ora lo sappiamo tutti è arrivato in Zola, è arrivato un attaccante di peso però ha bisogno di tempo, ha bisogno di inserirsi bene negli automatismi di questa Fiorentina nella squadra del nostro mister Vincenzo Italiano. Quindi insomma un po' di tempo ci vuole però non rammarichiamoci, non cominciamo con queste cose si fa cacare di qui, si fa schifo di là, cioè ragazzi siamo alla seconda partita ufficiale della stagione stasera proprio non mi riesce a parlare, sono talmente stanco scusate. Quindi non cerchiamo di portare la discussione verso tutte queste critiche che non sanno proprio di un bel niente anzi la qualificazione ci si può giocare benissimo a Firenze, è una partita che si gioca in 180 minuti quindi c'è tutto il tempo per recuperare. È vero, si poteva sicuramente arrivare a Firenze con un pareggio sarebbe stato meglio o meglio ancora con una vittoria, non è stato così quindi non ci abbattiamo troppo non cominciamo, tanto sicuramente verranno fuori e quindi mi toccherà proprio prendere e scrollare di brutto tutte le pagine, tutta sta gente che scriverà queste boiate terrificanti perché è gente che non riesce ad andare proprio oltre il suo naso. Io la partita l'ho vista, l'ho vista tutta nella sua interezza e mi posso assicurare poi ci vogliate credere o meno che la partita il 31 d'agosto fra una settimana sarà completamente differente. Abbiamo visto quali sono le potenzialità della nostra Firenze, quindi diamogli credito non cominciamo a dire boiate che non sanno di niente perché era una partita complicata, è stata una partita complicata lo sapevamo. Bene, andiamo avanti, non è successo niente di apocalittico, non è che si è preso 5 pere come quando siamo andati a giocare contro la Stella Russa. Cioè si è perso 1-0, è vero, rompe il cazzo perdere però onestamente nel secondo tempo un pochino la prestazione della squadra c'è stata, sebbene tutti ci savesse negli occhi la partita di Genova contro il Genova. Comunque, detto questo vi faccio ascoltare perché mi è arrivato tosto tosto il messaggio del nostro amico Alfredo Pizzacchiere, ce l'ascoltiamo tutti insieme e poi ci salutiamo e ci ritroviamo al prossimo video. Saluto a tutti gli amici dell'Indiavolata da parte di vostre pizzacchiere, ma che vi devo dire stasera? Primo tempo asettico, anonimo, nervosismo in campo, delusione come uomini da parte di Bonaventura, di Mandragola e anche del capitano Piraghi che non hanno fatto altro che prendersi a parolacce durante tutta la partita e il rapido ha fatto la sua. Delusione? Sì, sì, forte delusione stasera, si è visto qualcosa quando ha cominciato a togliere queste, tra virgolette, senza offesa mille marce dal campo e si è cominciato a vedere qualcosa. Bene, i due argentini sono entrati in campo, forse se c'erano un pochino prima ma forse si era visto qualcosa di meglio. Ma si si aggiorna giovedì prossimo per quanto riguarda la conferenza. Buonasera a tutti. Quindi ringraziamo Alfredo, il nostro pizzacchiere, è vero, sì, delusione c'è, di certo non è che sono contento perché si è perso una zero in casa del Rapid Vienna, purtroppo comincia con una sconfitta questa nostra avventura di quest'anno nella UEFA Conference League e che dire, andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti perché comunque sappiamo che è cominciato un nuovo corso, con nuovi giocatori, con nuovi dettami di gioco e lo si vede tutti, l'abbiamo visto tutti, anche stasera comunque l'abbiamo visto un pochino meno che a Genova, però qualcosa di diverso rispetto all'anno scorso l'abbiamo visto e ne siamo tutti consapevoli. Quindi forza così, andiamo avanti, c'è la partita di ritorno, quindi non ci abbattiamo, ora domenica c'è il Lecce, altra partita importante perché bisogna dare seguito a quello che abbiamo fatto domenica, sabato scorso a Genova contro il Genova e quindi incrociamo le dita e speriamo di portare a casa altri tre punti. Ci vediamo al prossimo video, io come sempre vi dico, forza viola sempre e comunque, un saluto a tutti da parte del vostro indiaviolato. Ciao!